Amici, vi ricordate il mitico accordo di Malta, lanciato qualche settimana fa da Malta, Italia, Francia e Germania? C'era stato presentato dai politici, ma anche dai media, dalla gran parte dei giornali, come un accordo storico, una pietra migliare, per tanti motivi. Il primo è che l'Unione Europea sembrava intenzionata a cambiare la sua politica sull'immigrazione. Il secondo motivo è che l'Europa ritrovava coesione in nome della solidarietà. Il terzo motivo è che il governo Contebis, nato dall'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, era riuscito, con passo felpato ma deciso, a togliere l'Italia dal suo isolamento e a rimetterla nel gioco con le altre potenze dell'Unione. Vi ricordo che l'accordo si basava su questo principio. Un migrante entra in Europa, poniamo in Italia, ma non è detto che debba restare in Italia. Infatti, i paesi che hanno lanciato la proposta sono disposti, su base volontaria, e qua già si avverte una mezza fregatura, a prenderne una parte. Non c'è quindi nessun meccanismo automatico. In ogni caso, la notizia di oggi è un'altra, cioè l'accordo era in realtà un pre-accordo che è stato sottoscritto da ben tre paesi, Irlanda, Portogallo e Lussemburgo. Lo ha detto la ministra Lamorgis, che si è data altri due mesi di tempo per cercare di convincere qualcuno. Ma allora il grande accordo non era affatto grande e non era nemmeno un accordo. Questo ovviamente ci fa capire quale sia il peso reale del conte bis, ma non importa. Osserviamo anche che la notizia è finita dalla pagina 1, 2, 3, quando c'è stato l'accordo, a pagina 16, 17, 18, adesso che l'accordo si è rivelato un fallimento totale. Anche i paesi che l'hanno lanciato pare che abbiano qualche dubbio. Ad esempio la Germania ha detto, ma noi siamo sicuramente solidali con l'Italia e con gli altri paesi, a patto naturalmente che non crescano le quote di immigrazione, cioè che l'immigrazione non diventi ancora più numerosa. Ma anche qui c'è qualcosa che non capisco. Ma scusate, ma l'accordo di Malta sembra fatto apposta per incoraggiare le partenze e dunque gli sbarchi e ora ci venite a dire che nel caso le quote di immigrati salgano salta tutto. Ma decidetevi, porca miseria.